ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video da oggi vi saluterò così ecco rick taric facciamo un balletto il balletto allora ragazzi oggi vi spiego come ottenere tanta matrice allora per ottenere tanta matrice non ci vuole niente basta che usate qualcosa di molto costoso di grande valore così lo potete vendere avere tanta matrice in questo caso ragazzi io vi consiglierei veramente il tornio il tornio è uno dei migliori banchi dove puoi ricavare fuori tanta di quella matrice adesso io sto vendendo le canne perché le canne dai ragazzi le canne le compreranno tutti di sicuro l'attività andrà matricchissimo quindi direi che la vendita delle canne sta andando alla grande quindi io continuo e continuo a venderle così da far spalancare la bocca di dio fino a scendere sulla mia attività fino a distruggerla così spariscono tutte le canne le canne sono ottime per tutti quindi venite da un coltoni venite a comprarle venite a farmi fare un po di matrice perché ne ho bisogno perché sono accorto di matrice quindi quindi ragazzi io come matrice mi faccio la vendita delle canne quindi come questo qua che speriamo che le compri dai ti sto salutando da uomo eh dai da poccione dai fammi vedere dai compra qualcosa dai compra da un coltoni supporta mi saluta anche io invece sai cosa ti faccio? beh domando al diavolo ecco adesso cosa vuoi fare eh cosa vuoi fare? adesso anche lui mi manda al diavolo vabbè ok ora basta con le stupitaggini allora come ottenere tanta matrice questo è il trucchetto ma io vi consiglio di farvi il tornio oppure il banco da lavoro oppure la trafilatura sono ottimi i banchi per accumulare tante molle tante lame tante canne tante piastre di ferro così da ad accumulare tanta matrice e non avere nessun problema quindi ecco adesso è uscito uno con il fucile in mano quindi questo vuole rapinarmi senta le canne sono qui quindi era solamente un video per spiegarvi come ottenere tanta matrice quindi anche per farmi un po' di pubblicità della mia attività nel mio clan alfa group quindi ragazzi questo è tutto ci vediamo ad un prossimo video mi raccomando iscriviti e lascia like ciao